andiamo a mostrare quelli che sono i prossimi ospiti che andiamo ad ammettere c'è antonio manfred e pierpaolo scandurra eccoli qua buongiorno antonio colleghiamo il microfono buongiorno pierpaolo dovete solo togliere il minuto dal microfono eccoci qua antonio buongiorno benvenuto ciao stefano buongiorno buongiorno per paolo ben ritrovato tu eri con noi anche questa mattina allora due parole velocissime su cosa parleremo poi vediamo tempo di prepararvi e iniziamo prego ma allora l'idea è quella di presentare congiuntamente a pierpaolo un po il certificati quindi che cosa sono ci sarà anche qualche slide diciamo legata più all'aspetto teorico senza entrare in maniera eccessiva nel dettaglio ma comunque dare un'idea di come si costruiscono principalmente i certificati a capitale protetto in prefazione ci sarà una breve introduzione diciamo su exan sul gruppo exan che cosa che cosa facciamo e infine presenteremo diciamo le ultime le nostre ultime missioni che abbiamo che abbiamo lanciato recentemente sul mercato perfetto pierpaolo dici un pochino invece di cosa parleremo lato tuo lato mio naturalmente interverrò di volta in volta insomma commentare quanto dice antonio e poi abbiamo selezionato qualche idea dal mercato secondario naturalmente tra i prodotti di exan e quindi presenteremo qualche opportunità votata non necessariamente di nuova emissione bene 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 allora iniziamo con se volete dunque io volevo fare due cose velocissimamente leggervi e condividere appunto con voi il titolo di questo intervento che voi in realtà avete già detto appunto ma ci tengo a ridirvelo e dirlo soprattutto le persone a casa perché perché la sala semi prosegue appunto per tutto il giorno e quindi l'intervento di adesso quello sui certificates come giustamente sottolineato da antonio per paolo strumenti di investimento efficaci nella set allocation voi potete fin da ora porre le vostre domande ovviamente in chat sarà mia dovere porle appunto ai relatori a per paolo e antonio magari più verso la fine appunto dell'intervento e poi vi ricordo intanto non so se volete già condividere lo schermo così andiamo in condivisione e dicevo vi ricordo anche gli interventi successivi perché perché alle 15 15 subito dopo questo intervento c'è toni cioli puviani attesissimo con la sua scuola di trading e subito dopo ci sarà ancora pier paolo scandurra pier paolo oggi vero protagonista di investi in roma ma meritatamente come sempre e infine alle 17 45 fabrizio milano d'aragona con un intervento molto molto interessante sull'intelligenza artificiale applicata al trading quindi temi anche molto molto interessanti voi a casa rimanete collegati sempre a questo link invece chi è in sala ovviamente qui con noi può godere e fruire di questi webinar benissimo allora chi inizia con la condivisione antonio perfetto prego antonio allora buon pomeriggio buon pomeriggio buon pomeriggio a tutti grazie mille stefano per per l'introduzione saluto anche anche pier paolo scandurra che oggi insieme insieme a noi insieme exan diciamo entrerà un po più nel 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 dettaglio so che durante la giornata ci sono stati già altri 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 webinar altre altre conferenze legate a questi a questi strumenti quindi oggi si parlerà di eh di certificates eh e quindi andando andando subito un po a quelli che saranno i temi i temi trattati e beh innanzitutto ci eh ci presentiamo per chi ancora non 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 ci dovesse non ci dovesse conoscere quindi presenterò un po il 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 gruppo exan eh poi presenteremo un po cosa sono i certificati di investimento ci sarà anche qualche slide più più didattica ovvero andremo a focalizzarci su alcuni aspetti a livello proprio di strutturazione eh dei certificati a capitale condizionatamente protetto e poi diciamo concluderemo l'intervento con le nostre ultime le nostre ultime missioni sul sul mercato eh listato eh in Italia eh pier paolo non so se vuoi se vuoi aggiungere qualcosa tu ma semplicemente innanzitutto salutare e ringraziare tutti coloro che sono in sala streaming eh a investing roma questa mattina ero presente poi mi sono spostato ma naturalmente un saluto a tutti coloro che hanno faticosamente raggiunto eh la sala di di Roma e a me è un saluto anche invece a chi è collegato da casa lato mio non aggiungerei altro hai correttamente presentato ciò che faremo assieme ecco mh dal punto di vista dell'ufficio studi certificati e derivati vedremo qualche idea selezionata sul secondario ma chiaramente solamente dopo aver affrontato eh più più chiaramente con te la base quindi cosa sono i certificati quali sono le principali tipologie ok perfetto allora diciamo inizierei inizierei questo intervento con una con un overview del del gruppo del gruppo Exan quindi le attività che vengono svolte all'interno all'interno del gruppo eh Exan è una casa di investimento che è stata fondata eh agli inizi degli anni novanta in Francia iniziando la sua attività come eh broker eh specialista nella ricerca azionaria al livello a livello a livello europeo una società che è cresciuta tanto nel corso nel corso del tempo e di conseguenza oggi eh esistono tre diverse linee di business all'interno del gruppo eh il cash equity che esce sotto il brand Exan BNP Paribas quindi riguarda tutte le attività di ricerca e brokeraggio sul mondo azionario europeo e americano eh la copertura dell'America è qualcosa di a livello di ricerca è qualcosa di una novità abbastanza recente iniziata iniziata l'anno scorso quindi sulla scorta della di quanto diciamo dell'esperienza eh accumulata in sul mercato europeo la casa ha deciso anche di estendere la sua copertura la sua coverage al mercato al mercato americano mercato azionario americano. Seconda area di business del del gruppo è l'asset management all'interno del del gruppo Exan infatti esistono tre diverse società di asset management specializzate e in particolarmente eh in modo particolare appunto Exan Asset Management eh specialista in fondi long short sul mercato azionario europeo e l'Ipsis Asset Management che invece si occupa principalmente di fondi di obbligazioni convertibili una delle asset class eh un asset class abbastanza particolare abbastanza di nicchia sulla quale la ricerca eh Exan comunque si è si è distinta a livello a livello europeo nel corso del tempo e da ultima Exios Asset Management che invece è il gestore della casa gestore tematico azionario. Terza parte diciamo delle terza area di business del gruppo Exan è quella appunto definita Derivatives eh in particolar modo appunto attraverso Exan Derivatives principalmente eh cross asset solution quindi eh per tradurla in per tradurla in termini anche più semplici certificati eh di investimento. Di Exan Derivatives esistono tre hub principali quindi Parigi che è la sede dove siede la strutturazione e il il trading eh e Ginevra e Milano che invece sono più dei front office dove appunto è presente la la forza vendita eh che appunto si occupa di eh seguire per per il gruppo la parte di certificati mercato svizzero quindi svizzera tedesca, svizzera romanda e svizzera italiana, mercato italiano evidentemente e Lussemburgo seguito dalla Francia dove si segue anche chiaramente il il mercato francese. Quindi principalmente eh per quanto riguarda Derivatives una a una copertura paneuropea. Proseguendo quindi eh come anche abbastanza abbastanza noto eh la compagine sociale di Exan è composta da due soci fondamentalmente. Da un lato BNP Paribas che eh detiene il cinquanta per cento del capitale di Exan. Il restante cinquanta per cento è invece detenuto da partner quindi persone fisiche che lavorano all'interno all'interno della casa. Chiaramente ci sono la partnership con BNP Paribas è costruita su diciamo tre diversi assi. Uno è prettamente operativo per quanto riguarda Exan BNP Paribas per quindi per quanto riguarda il mondo eh della ricerca e dell'intermediazione azionaria. C'è una partnership di bilancio che chiaramente come vi come vi annunciavo prima BNP è un il socio forse ehm più importante all'interno 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 del gruppo e una partnership del capitale e chiaramente eh in un certo senso eh fornisce sia linee di di liquidità sia a sostegno alla alla solidità di Exan e allo stesso tempo poi anche alla sua alla sua alla sua indipendenza. Per quanto riguarda diciamo l'aspetto l'aspetto principale del del gruppo Exan come immagino abbiate abbiate intuito riguarda essenzialmente il tema della della ricerca. La ricerca è un aspetto sul quale sulla quale il il gruppo ha investito molto nel corso del tempo soprattutto sulla ricerca azionaria quindi sotto Exan BNP Paribas eh ma direi anche sotto la ricerca più eh cross asset quindi di asset allocation e poi anche nel mondo fixed income e delle obbligazioni convertibili per quanto riguarda invece eh Exan Exan Derivatives. Quindi eh la ricerca è stata ed è tuttora il il fulcro e l'elemento eh attorno al quale diciamo si sviluppa eh generalmente l'offerta 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 di Exan. Quindi questa una giusto una prima una una breve introduzione di di Exan quindi per quanto riguarda le attività svolte a livello a livello di gruppo anche per inquadrare eh appunto l'emittente dei certificati e proprio su questo aspetto appunto andiamo eh andiamo subito nella parte più eh se volete un po' più teorica ma che poi quella eh che anche nel corso del tempo abbiamo ribadito essere la più fondante la più importante per eh per 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 comprendere anche a pieno il i certificati e poterli poi come da titolo di questo di questo intervento inserirli nella nell'asset nell'asset allocation. Eh vi dicevo abbiamo inquadrato l'attività del gruppo adesso ci spostiamo sulla parte di Exan Derivatives quindi sulla parte eh sul mondo dei certificati. Comprendere quindi che cosa sono che cosa sono i certificati. Di fatto se posso poi magari in questo in questi aspetti vi faccio intervenire anche anche Pierpaolo eh nella questi aspetti più tecnici eh di diciamo di comprensione dello strumento. Lato mio cosa dire? Dire che innanzitutto i certificati indipendentemente di Exan o di altri sono dei titoli di credito quindi degli strumenti di debito e pertanto emessi da una da un'entità può essere una banca può essere una società eh una società finanziaria comunque all'interno del mondo del mondo finanziario. Quindi presentano un emittente e in alcuni casi possono presentare appunto un eh un garante del dell'emittente stesso. Nel caso per dare anche un esempio eh pratico e concreto nel caso di Exan l'emittente dei certificati è Exan Finance che all'interno del gruppo è la società che si occupa eh appunto delle emissioni quindi che fa da emittente dei eh dei prodotti e mh Exan Derivatives invece funge da garante dell'emittente. Exan Derivatives è la società che poi all'interno del gruppo è anche quella retata quindi quella che presenta un eh un rating eh S&P tripla B plus MUDIS BAA2 come vedete anche dalla a dalla slide. Da questa prima già diciamo definizione ne vince anche in un certo senso eh un elemento abbastanza importante e di conseguenza anche se possiamo chiamarlo così ed è abbastanza lecito uno dei rischi eh principali dei certificati che sicuramente accomuna tutti i certificati e tutte le tipologie ovvero il il rischio eh il rischio d'emittente sono appunto degli strumenti degli strumenti dei titoli di credito sono equiparabili alle obbligazioni senior unsecured però giusto per chiarezza ribadiamolo non si tratta di eh di obbligazioni ma si tratta proprio appunto dello strumento certificate. In maniera in maniera generale i eh i certificati sono degli degli strumenti finanziari che il cui diciamo il cui andamento il cui funzionamento tipicamente dipende e quindi qui se volete entra in gioco anche l'aspetto di derivati eh dipende dall'andamento di uno o più sottostanti e quando parlo di sottostanti faccio riferimento ad azioni faccio riferimento a indici a valute ma anche a tassi a tassi a tassi di interesse in alcuni casi anche ad obbligazioni. Tipicamente che cosa succede in un certificato? Si vanno a utilizzare ma non è una condizione diciamo che valevole in tutti i casi si possono utilizzare anche sottostanti che tipicamente non sono eh direttamente accessibili agli investitori ma molto banalmente pensate agli indici eh un indice di fatto non è investibile di per sé ma occorre uno strumento che ne rifletta il suo andamento possono essere i future possono essere gli etf possono essere anche eh i eh i certificati. Come vi dicevo l'aspetto derivativo entra di derivati comunque entra in questo aspetto nel in questo in questo in questo ambito nel fatto appunto che il valore di un certificato è legato all'andamento di uno o più sottostanti ma in che modo lo è legato eh lo è legato attraverso diciamo eh l'utilizzo e la combinazione di eh opzioni quindi di un elemento opzionale all'interno all'interno della struttura. Questo di fatto permette di eh offrire attraverso i certificati eh dei payoff legati a un sottostante eh che possono essere di diversa natura e che tipicamente vanno a eh cambiare il profilo rendimento rischio rendimento tipico del sottostante sul cui eh sul quale diciamo viene scritto viene messo e viene legato il eh il certificato. Eh pensate adesso magari eh li li vedremo anche più nel dettaglio ai certificati Phoenix ai certificati eh bonus cap ma gli stessi capitale certificati a capitale di fatto ti permettono di esporti gli permettono offrono l'esposizione a un sottostante ma ne modificano il suo il suo profilo di rischio attraverso una protezione condizionata o incondizionata del capitale attraverso un fattore di partecipazione alla sola performance positiva maggiore a uno eh attraverso la corrisponzione di cedole periodiche eh di possibilità di rimborso anticipato quindi tutti elementi eh che ormai in un mercato come quell'italiano che è cresciuto molto negli ultimi anni sono abbastanza abbastanza noti ma non lo diamo non lo diamo mai per scontato quindi è sempre è sempre buono è sempre diciamo positivo secondo me ripeterlo ma sono tutti elementi che di fatto derivano proprio dalla combinazione di questi eh di questi elementi di questi elementi opzionali. in questa slide in basso mi sono permesso di prendere a prestito da da Cepi eh diciamo la 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 categorizzazione stabilita da da Cepi stessa quindi eh dall'associazione italiana mh degli emittenti dei certificati eh per cui vengono di fatto identificate all'interno all'interno del mondo dei certificati quattro diverse quattro diverse categorie quindi certificati a capitale quindi certificati in cui eh salvo il default dell'emittente eh viene eh diciamo offerto il rimborso integrale a scadenza del capitale indipendentemente dal dal sottostante certificati a capitale condizionatamente protetto in cui viene inserita una eh clausola di eh diciamo una condizionalità per il rimborso del capitale a scadenza tipicamente questa condizionalità legata all'andamento del del sottostante del del certificato certificati a capitale non protetto quindi sono fondamentalmente un po' tutti gli altri le altre tipologie di certificati che non ricadono nelle nelle due precedenti in cui non è presente in alcuna forma quindi né condizionata né incondizionata eh forma di protezione del del capitale e da ultimo ma non per importanza i certificati eh alleva che di fatto offrono un'esposizione come scritto anche sulla slide amplificata o a rialzo o a ribasso e amplificata per un fattore pari alla alla leva stessa eh dell'andamento all'andamento del del sottostante. Pierpaolo non so se vuoi se vuoi aggiungere qualcosa su questi aspetti tecnici legati appunto alla che cosa sono che cosa sono i certificati. Ma no direi che comunque hai illustrato il funzionamento cioè insomma la costruzione la classificazione direi che possiamo andare avanti così vediamo poi più nel dettaglio le tipologie e in quali contesti si utilizzano naturalmente insomma è abbastanza intuitivo a seconda della classificazione a Cepi qual è la finalità dell'investimento quindi se c'è all'ascolto se sono presenti persone che si sono avvicinate a questo mondo per trovare delle alternative al reddito fisso e quindi anche eventualmente la tranquillità di eh non mettere a rischio il capitale il la la categoria capitale protetto è quella forse più indicata fermo restando che eh lo vedremo probabilmente dopo meglio con Antonio non sempre è possibile trovare delle delle emissioni eh interessanti e soprattutto non tutti gli emittenti è qualcosa di cui abbiamo accennato anche questa mattina con un altro un altro player eh non italiano ecco magari questo poi Antonio ce lo spiegherà più nel dettaglio e viceversa se si vuole trovare una soluzione a rendimento cetolare ma con un controllo del rischio anche abbastanza importante con barriere di prezzo eh posizionate molto a ribasso fra poco chiariremo anche questo concetto la categoria più importante quella più ampia e quella più ricca è sicuramente quella dei certificati e capitale condizionatamente protetto dal momento che non credo che tratteremo in maniera approfondita un aspetto ecco magari mi aggancio Antonio solo per ricordare che qualsiasi certificato si vada ad utilizzare eh lo si fa con un'efficienza fiscale eh che non ha uguali su sotto il punto di vista degli altri strumenti tradizionali questo perché tutti i certificati che si vanno ad utilizzare generano sempre e solamente redditi diversi quindi sono utili per la compensazione delle minusvalenze questo a maggior ragione quando si hanno dei rendimenti potenziali più importanti e vedremo oggi delle emissioni ecco questo era solo per un po' per aggiungere qualcosa che non era stato ancora chiarito. Ok perfetto. Quindi diciamo sono in questa slide vedete anche dei punti che abbiamo di fatto trattato in questa in questa in questa prima in questa prima premessa più più tecnica l'aspetto interessante dei certificati è legato appunto a quella che definiamo la loro flessibilità chiaramente si possono creare sullo stesso sottostante diverse tipologie di strumenti che permettono di avere diverse finalità appunto accennava anche per Paolo prima dalla protezione a un'esposizione superiore a quella che può essere l'andamento del sottostante stesso e di fatto il certificato è l'unico o comunque uno dei pochi strumenti che permette eh questa questa flessibilità questa questa anche d'utilità in termini di eh di trasformazione di un payoff tradizionale come può essere l'acquisto di un'azione o l'acquisto diciamo di strumenti di strumenti lineari strumenti più ehm più diciamo più standard in un certo senso ehm accennavo prima al fatto che permettono l'accesso anche ad asset class non tradizionali ma molto semplicemente anche il concetto degli eh degli indici per poi passare anche alle valute, tassi di interesse, alle materie prime quindi abbastanza ehm variegato il il panorama di sottostanti che si possono utilizzare anche da questo punto eh da questo punto di vista e e poi chiaramente soprattutto nei certificati a capitale protetto o nei capitali eh nei certificati a capitale condizionatamente protetto chiaramente c'è anche un aspetto di eh come accennava prima Pierpaolo di gestione del rischio di controllo anche della eh della dell'esposizione al al sottostante. Prima di andare a concentrarci sulla sulla grande differenza poi anche da un punto di vista di strutturazione che esiste tra i certificati a capitale protetto e certificati a capitale condizionatamente protetto e poi su quest'ultimi su quest'ultimi poi in particolar modo si andranno anche a focalizzare gli esempi pratici quindi le nostre le nostre anche le le nostre ultime missioni ehm in questa slide di fatto eh abbiamo abbiamo diciamo messo alcuni elementi eh che magari saranno per chi non è proprio avezzo ai certificati saranno più chiari sperabilmente eh in maniera diciamo successivamente alcuni degli elementi diciamo di innovazione che abbiamo eh che abbiamo introdotto sul mercato eh sul mercato sul mercato italiano sono diciamo tutti degli elementi che entrano in gioco eh quando diciamo soprattutto nei certificati a capitale condizionatamente protetto e come vedremo come vedremo a breve in particolare in momenti eh diversi se volete della vita di questi prodotti ovvero per quanto riguarda alcuni effetti alcune variazioni per quanto riguarda i ehm l'aspetto cedolare altri aspetti che riguardano invece altre variazioni altre innovazioni per quanto riguarda l'aspetto di rimborso anticipato e infine eh diciamo l'ultimo le variazioni che riguardano l'ultima componente dei certificati a capitale condizionatamente protetto ovvero la protezione condizionata appunto del capitale eh del capitale a scadenza. Quindi per il momento diciamo la terrei un attimo in stand by questa questa slide e magari ci ritorniamo dopo anche per cercare di eh di capirne più il il significato e direi di andare. Antonio guarda c'è una cosa che stavo leggendo le varie innovazioni me ne è venuta in mente una che forse è stata proprio alla base di tutto cioè la cedola mensile in realtà è stata un'innovazione di Exan eh rispetto a quello che era un mercato che in quel momento proponeva cedole o comunque osservazioni con frequenza annuale eventualmente semestrale non si era ancora fatto il passaggio alla frequenza mensile e ed è stata Exan a portarla per la prima volta sul mercato italiano quindi ecco credo che tra le varie innovazioni vi va dato merito di aver fatto anche questo. Sì effettivamente effettivamente all'inizio all'inizio proprio della nostra della nostra attività in Italia è stato proprio uno dei eh degli elementi che ci ha che ci ha caratterizzato ed effettivamente adesso il mercato eh è per lo più spero di non sbagliarmi ma penso di no per lo più composto da eh certificati eh che presentano delle cedole delle cedole mensili. Eh quindi intuite già parlo anche per chi non per chi non ha mai utilizzato per chi è la prima volta che si affaccia al mondo dei certificati ce ne vogliano e parlo mi permetto di parlare anche a nome di Pierpaolo chi invece è ormai un utente experience dei certificati ma fa sempre io dico sempre che fa sempre bene un 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 piccolo un piccolo ripasso. Intuite che dai certificati a capitale condizionatamente protetto esistono fondamentalmente tre componenti che appunto quella cedolare il flusso cedolare che offrono tipicamente la possibilità di rimborso anticipato e poi la protezione condizionata del capitale del capitale a scadenza. Mi ha permesso un attimo di mettere questa slide un po' in stand by in pausa e di spostarci eh diciamo sulle sulle due tre slide successive per cercare mh diciamo di comprendere come di fatto vengono costruiti questi eh questi certificati e partiamo dal certificati a capitale protetto vi premetto che eh non non sono degli strumenti sui quali possiamo essere attivi e spero che eh capiate capiate a breve il il perché e quindi di fatto non ne verranno presentati eh successivamente non ne verranno illustrati anche con esempi pratici successivamente ma abbiamo pensato di introdurre questa slide un po' come una slide di passaggio verso poi il funzionamento dei certificati a capitale eh invece condizionatamente protetto. Come vengono costruiti tipicamente eh i certificati a capitale protetto? Di fatto nella stragrande maggioranza dei casi si compongono da due elementi da un lato c'è lo zero coupon bond dell'emittente eh e dall'altro una componente opzionale che tipicamente è rappresentata da una partecipazione al rialzo di un di un sottostante a scadenza che in altri termini altro non è che un'opzione call ti permette di partecipare a scadenza alla partecipazione alla performance positiva di un sottostante altro non è che è la definizione di un'opzione call. A partire da quando? A partire dal suo livello iniziale quindi più precisamente un'opzione call con strike a the money. Andando a guardare la componente di zero di zero coupon bond e invece quella serve a creare la garanzia del la protezione più corretto dire protezione del capitale eh del capitale a scadenza. Come avviene? Come avviene di fatto? Immaginate appunto di comprare uno zero coupon bond e immaginiamo di essere eh dieci quindici ma forse anche così dieci quindici anni fa tipicamente compravi uno zero coupon bond a uno sconto a un valore diciamo scontato eh ad oggi a un valore a sconto rispetto al valore valore nominale quindi supponiamo a novantotto comprando uno zero coupon bond a novantotto ti assicuravi a scadenza il rimborso a cento a meno che non fallisse a meno diciamo che non vada in in default l'emittente lo ti andavi ad assicurare appunto il rimborso del capitale a cento a scadenza quindi compravi a novantotto ricevevi cento a scadenza realizzavi questo rendimento del eh del due del due per cento nei certificati a capitale eh protetto altro non avviene che questo quindi nel momento di costruzione di fatto l'emittente lo strutturatore va a scontare il rimborso il valore nominale quindi il cento per cento che si otterrebbe a scadenza in qualsiasi scenario lo va a scontare ad oggi per andare a determinare quello che è appunto il prezzo di emissione del certificato nell'operazione di sconto entrano in gioco i tassi di interesse ora quando i tassi di interesse sono positivi e sono a livelli direi normali ma comunque diciamo a livelli positivi o elevati chiaramente dall'operazione di sconto ne verrà ad oggi un valore inferiore alla pari quindi supponiamo quel novantotto quel novantasette di cui parlavo prima e questo permette diciamo di lasciare uno spazio che è pari appunto a quel a quel tre per cento quindi la differenza tra cento che è il prezzo di emissione che andate a pagare quando comprate un certificato quantomeno in sottoscrizione è il valore diciamo dello zero coupon bond quello spazio lì quindi quel tre per cento supponendo che valga novantasette serve ad andare a finanziare ad acquistare l'opzione l'opzione goal oltre chiaramente a tenere questo va sicuramente detto una remunerazione per lo strutturatore e l'eventuale distributore del prodotto fin qui abbastanza standard abbastanza teoricamente abbastanza facile quindi eh si potrebbe fare oggi sapete benissimo e non vi dico nulla di nuovo e chiaramente i tassi di interesse sono negativi per cui dall'operazione di dall'operazione di sconto eh del valore nominale che ho a scadenza ad oggi non ho un valore a cento addirittura un valore superiore superiore a cento quando sconto per un utilizzando un valore un valore negativo quindi di fatto oggi la costruzione dei prodotti a capitale protetto diventa particolarmente particolarmente difficile e da qui il successo eh che hanno avuto nel corso degli ultimi anni quindi da quando ormai conviviamo con questo mondo di tassi a zero o negativi dei prodotti a capitale condizionatamente protetto che vedremo diciamo nella slide nella slide successiva. Pierpaolo non so se vuoi fare qualche qualche commento prima di fare questo passaggio come dicevo prima verso il il mondo dei certificati a capitale condizionatamente protetto. Sì no voglio solamente ribadire quanto ehm ho avuto occasione già di dire in altre situazioni però proprio per chi magari sta iniziando a seguire adesso è questo che è stato raccontato da Antonio unitamente al rischio di credito paese il motivo per cui oggi è difficile trovare dei certificati a capitale protetto che proteggano veramente il capitale a meno che l'emittente non venga percepito dal mercato in maniera un po' più rischiosa. Questo vuol dire che se qualche prodotto in circolazione c'è è tipicamente emesso da un emittente italiano che in questo momento beneficia paradossalmente di una percezione del rischio maggiore sul mercato obbligazionario. È un po' come quando diciamo il BTP paga un tasso a dieci anni dell'uno e settanta per cento sicuramente il tasso di titoli di Stato francese pagherà di meno il Bund e addirittura rendimento negativo. Ecco se vogliamo la possiamo leggere anche sotto quest'altra chiave di lettura. Evidentemente l'emittente che è percepita in maniera più solida sul mercato è quello che riesce ad offrire meno anche da un punto di vista di protezione del capitale. Quello che invece è percepito in maniera un po' più rischiosa ha ragione o meno eh non non stiamo qui non a fare analisi fondamentali però è quello che viene percepito in maniera più rischiosa è quello che ha un po' più di spazio per costruire magari una struttura anche perché giustamente a volte la struttura oltre che con lo zero coupon bond si potrebbe provare a costruire anche in maniera più sintetica ovvero solo con opzioni ma anche lì rientra naturalmente in gioco il rischio di credito e quindi quanto spende l'emittente o quanto si spende per finanziare o eventualmente paga di interessi. Questo un po' per tradurre il motivo per cui se andiamo a guardare in questa categoria tipicamente non troviamo emittenti francesi ecco per per fare un esempio del di questo tipo. Vi dicevo è una slide di passaggio per spiegare poi anche il perché questo grande successo dei certificati a capitale condizionatamente predetto per cui è questo un po' il segmento all'interno degli investment certificate dove forse gli emittenti siamo 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 più attivi. Perché questo? Perché di fatto se non è possibile dare una protezione incondizionata quindi il capitale protetto di cui parlavamo prima è possibile invece in maniera poi di questo periodo anche in maniera forse più 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 interessante che mai dei certificati a capitale condizionatamente protetto. Antonio scusa se ti interrompo no perché è proprio contestuale a quello che stai dicendo altrimenti poi se la dico fra cinque minuti perde di efficacia. C'è da dire che non è solamente un discorso come abbiamo appunto detto si riesce a costruire o meno ma è anche quello che poi si riesce a puntare come rendimento cioè pur volendo emetterlo oggi un certificato a capitale protetto a livello di rendimento è talmente basso che poi probabilmente non non desterebbe nessun interesse quindi a questo punto rinuncio alla protezione incondizionata ed ecco che nasce il prodotto con la protezione condizionata perché perlomeno magari scelgo una barriera molto bassa quindi molto difensivo ma almeno riesco ad arrivare a un rendimento annuo del quattro cinque sei per cento e anche a doppia cifra. Dall'altra parte pur riuscendo a costruirlo poi devo capire se mi conviene o meno comprarlo perché poi tipicamente una struttura protetta che dura cinque o sei anni è anche una struttura molto poco reattiva nei confronti del mercato cioè tu oggi lo compri difficilmente si muove molto al rialzo nei primi due o tre anni quindi sono proprio logiche di investimento totalmente differenti. Scusa se ti ho interrotto. No 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 hai fatto hai fatto hai fatto benissimo una diciamo una puntualizzazione assolutamente assolutamente pertinente per cui anche quei prodotti aggiungo anche quei prodotti che si trovano poi tipicamente hanno scadenze molto lunghe e quindi il commento che hai che appena fatto tu Pierpaolo mentre sui certificati a capitale condizionatamente protetto di fatto ci sono anche scadenze più brevi o comunque che vanno al massimo fino ai tre in alcuni casi fino anche ai cinque anni ma tipicamente la scadenza media che troviamo sul mercato è intorno e intorno ai tre anni spero anche qui di non aver detto una statistica falsa quantomeno sui sui prodotti sui prodotti ex-an tipicamente quella è la maturity la scadenza che andiamo che andiamo che andiamo che andiamo utilizzare e quindi appunto il certificato del capitale condizionatamente protetto adesso qui nella in questa slide trovate trovate un po tutto tutto dettagliato su come su come di fatto vengono vengono costruiti ma nella sostanza si va a utilizzare per offrire la protezione condizionata diciamo si va a inserire nel certificato una componente opzionale che è questa famosa put down and in e più in particolar modo diciamo è una posizione l'investitore che compra il certificato assume implicitamente una posizione corta su questa su questa tipologia di opzione che come potete intuire non è un'opzione vanilla quindi non è un'opzione put standard ma è un'opzione esotica e quel down and in permette proprio appunto di avere la protezione del capitale fino a una determinata soglia oltre quella soglia diciamo la protezione la protezione svanisce questa soglia che ormai è abbastanza famosa è la famosa barriera che c'è all'interno all'interno dei certificati barriera che chiaramente può essere posizionata su livelli differenti e quindi qui ritorniamo alla famosa flessibilità e duttibilità dei certificati quindi chiaramente a barriere più elevate quindi 70 80 per cento corrisponderanno livelli di protezione condizionata più bassi perché appunto un 70 per cento di barriera indica una protezione fino al 30 per cento di ribasso del del sottostante e allo stesso tempo quindi avendo una protezione condizionata più 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 contenuta tipicamente offrirà un rendimento eh più eh più interessante chiaramente più la barriera è bassa quindi pensate a barriere a 60 50 per cento in alcuni casi anche al 40 per cento offrono protezioni fino al meno 40 meno 50 o meno 60 per cento di ribassi del sottostante c'è una protezione condizionata più ampia chiaramente a questo corrisponderà un rendimento offerto dallo strumento più eh più basso quindi questo un po' in eh in sintesi il concetto del capitale condizionatamente condizionatamente protetto l'introduzione chiaramente di queste di queste opzioni di questa diciamo struttura opzionale all'interno all'interno dei certificati eh fa sì che il certificato abbia una una reattività una scusate una sensibilità a determinati parametri del 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 sottostante che sul quale sul quale viene viene scritto eh e quindi in particolar modo eh ipotizzando un certificato a capitale condizionatamente protetto su un singolo eh sottostante azionario quindi immaginate non so l'azione Eni intesa San Paolo Fiat presa singolarmente entrano in gioco diciamo degli elementi che vanno a determinare poi sia la struttura di per sé quindi il livello di barriera il livello di rendimento che si può eh che si può offrire sia poi andranno a governare quello che è il mark to market e quindi l'andamento sul mercato secondario del eh del certificato quindi chiaramente in un prodotto a capitale condizionatamente protetto eh tipicamente si dice che il che l'investitore assume una posizione corta sulla volatilità che cosa vuol dire vuol dire che tanto maggiore sarà la volatilità del sottostante tanto maggiore sarà da un lato in fase di strutturazione il rendimento il rendimento offerto dall'altro nel mark to market chiaramente a volatilità molto elevate corrisponderà anche un market mark to market del prodotto che chiaramente può variare può variare eh di più nel corso nel corso del tempo. Un altro elemento lo vedete dalla slide quando un investitore compra un certificato a capitale condizionatamente protetto assume implicitamente si dice una posizione corta sui dividendi è un po' come se fosse venditore di quei dividendi in che senso? Nel senso che in fase di strutturazione il dividendo tanto maggiore è il dividendo offerto dal sottostante tanto maggiore a parità di altre condizioni sarà il rendimento che quello strumento potrà offrire. Chiaramente in questi esempi che sto facendo sto tenendo a parità di barriera quindi a parità di eh protezione che viene che viene offerta. Per quanto riguarda il dividendo questo è un aspetto secondo me importante magari qui ti lascio anche commentare Pierpaolo il dividendo il dividend yield ha poi anche una sua eh implicazione sul mark to market quindi sulla vita sul mercato secondario eh dei eh dei certificati perché chiaramente se il dividend yield che io avevo stabilito in fase di strutturazione che quindi io strutturatore avevo come dire prezzato e utilizzato nel rendimento nel rendimento offerto se questo dividendo poi nella realtà dei fatti dovesse eh dovesse diminuire eh di fatto il mark to market del mio del mio del mio strumento a parità di condizioni aumenterà. E su questo magari Pierpaolo non so se vuoi fare vuoi fare una parentesi visto anche un po' il il contesto che abbiamo vissuto in questi mesi. Assolutamente allora guarda innanzitutto io mi permetto di suggerire a tutti coloro che sono all'ascolto sia da casa che in sala di memorizzare questa slide o comunque di di sottolinearla di di portarsela eh di fare una fotografia insomma credo che sia una slide veramente molto importante perché riassume quei tre parametri a cui i certificati guardano maggiormente nella formazione dei prezzi cioè soprattutto quando si inizia si si tende a pensare che il certificato debba seguire prevalentemente il sottostante cioè si quindi implicitamente quel certificato è stato costruito con sottostante intesa San Paolo si guarda all'andamento di intesa San Paolo e sembra quasi che che la variabile più importante sia proprio il movimento di intesa San Paolo. Nella realtà questo duemilaventi ci ha insegnato due cose molto importanti che quando si parla di certificati trattandosi di strategie in opzioni cartolarizzate cioè impacchettate dall'emittente poi messe a disposizione di chiunque di noi ehm tramite la quotazione sul mercato di borsa ecco nel momento in cui parliamo di opzioni la volatilità e i dividendi sono sono invece importanti ma mai come lo sono stati in questo duemilaventi ad esempio è corretto dire e quindi questa slide per questo la ritengo molto importante ad esempio cortovolatilità cioè cosa vuol dire che in questo momento con una volatilità che è ancora mediamente alta rispetto agli anni passati ci sono dei certificati che offrono delle ottime opportunità di ingresso e paradossalmente anche se non piace a nessuno forse l'eccessiva volatilità perché porta ad avere delle performance molto pesanti sui titoli e sui mercati ma lì i prezzi scendono ulteriormente e si creano quindi delle ulteriori opportunità poi avremo modo eventualmente ancora di approfondire quindi comprare il certificato in un momento in cui la volatilità è alta è sicuramente il momento migliore perché c'è un miglior rapporto tra rischio e rendimento per quello che riguarda i dividendi ehm è vero è molto importante questo tema ed è soprattutto molto attuale perché in questo duemilaventi c'è stata la novità che a cui non si era per fortuna dico io mai assistito di non essere riusciti ad incassare i dividendi che i titoli finanziari avevano previsto di pagare nel corso del duemilaventi e la maggior parte delle domande che arrivano sotto questo aspetto è quale tipo di impatto abbia avuto questa cancellazione del dividendo duemilaventi sui certificati e tu lo hai appena detto ma ma approfitto per ribadirlo che la eh l'impatto è stato evidentemente opposto a seconda che si parli dal lato dell'emittente e da chi invece il prodotto lo ha acquistato lato emittente è stato purtroppo un impatto negativo perché voi immaginate il certificato si costruisce in questo modo l'emittente decide di costruire un prodotto a tre anni fa una stima dei dividendi per i successivi tre anni perché giustamente come faccio io a sapere quale sarà il dividendo dell'anno prossimo posso eventualmente conoscere quello di quest'anno ma negli anni successivi si fa una stima questa stima più o meno studiata poi riaggiustata dalle varie case di ricerca che ciascun emittente può avere san sicuramente ne ha una come sappiamo tra le migliori in Europa quindi si fa una stima tu dici ok compro quelle opzioni costruisco questo certificato perché tanto so che nei prossimi tre anni mi arriveranno venti centesimi l'anno di dividendo da intesa e poi invece ecco che nel 2020 non ti arriva in tasca nulla questo quindi ha creato un ammanco nelle casse delle banche che hanno emesso questi prodotti e pertanto va considerato sempre che dall'altra parte c'è chi deve garantire il nostro capitale pertanto è a volte un po' superficiale dire vabbè è un problema della banca in realtà no diventa anche un problema mio perché come abbiamo detto all'inizio io subisco il rischio emittente quindi che la banca poi non incassi il dividendo è sicuramente un problema della banca perché in quel momento non impatta sul mio investimento ma non esageriamo perché se poi diventa un problema troppo lungo nel tempo diventa anche il mio l'altra parte invece lato certificato il mancato pagamento del dividendo come hai già anticipato tu Antonio ha un effetto positivo perché se è stato stimato che intesa in tre anni doveva pagare sessanta centesimi di dividendo e quindi già si sapeva che intesa da due euro sarebbe andata a uno e quaranta al netto dei dividendi non staccando l'intesa è rimasta più alta anche se poi questo effetto è stato bruciato dal fatto che la mancata distribuzione del dividendo ha portato poi a una vendita dei titoli da parte di chi sapeva che quel punto non avrebbe incassato i dividendi quindi si sono un po' equilibrate le due cose viceversa il lato emittente non si è equilibrata perché lì è stato un mancato incasso e almeno per ora insomma quindi ecco perciò ritengo poi c'è l'aspetto della correlazione che vedremo meglio quando vedremo i singoli prodotti ma questa slide ritengo sia fondamentale da assimilare proprio perché ci spiega bene le due variabili che quest'anno hanno mossi i prezzi in maniera ancora più determinante che quella dei sottostanti. Perfetto quindi diciamo appunto qui l'idea appunto è andare a identificare questi parametri che un po' governano l'andamento dei prodotti a capitale condizionatamente protetto in quel punto elenco trovate l'ultimo che è la correlazione che è un elemento che entra in gioco quando al posto di avere un unico sottostante si ha un basket che può essere un basket equiponderato ma come può essere e questa è un po' la stragrande maggioranza dei casi un basket worst off ovvero l'osservazione non la faccio soltanto su Intesa San Paolo ma la faccio sul peggiore tra Intesa San Paolo, Unicredit e Banco BPM o Intesa San Paolo, Fiat e Deni. Quindi introduco al posto di un singolo sottostante un basket worst off mi concentrerei sul basket worst off perché poi sono quelli diciamo che compongono la maggior parte dei certificati listati in Italia e introducendo il basket worst off perché lo si fa perché di fatto si introduce un elemento di rischio in più che è appunto la correlazione e chiaramente a fronte di questo elemento di rischio in più si avrà lato certificato un maggiore rendimento chiaramente a parità di tutte le altre condizioni. Perché parliamo di lungo? Diciamo che chi compra un prodotto a capitale condizionatamente protetto implicitamente assume una posizione lunga sulla correlazione e corta dispersione perché? Perché comprando un prodotto che ha come sottostante un basket worst off lo scenario che io come investitore voglio è che tutti i titoli si muovano tutti nella stessa direzione e in particolar modo tutti verso il rialzo o quantomeno non ribassi non oltre il livello della barriera quindi io voglio che la correlazione salga che la correlazione tenda a 1 ecco perché ho una posizione lunga sulla correlazione ce l'ho corta sulla dispersione perché non voglio che intesa mi faccia più 10 unicredit meno 20 e banco ppm meno 5 voglio che invece abbiano tutte eh tendenzialmente il segno più o se abbiano il segno meno che ce l'abbiano tutte contenute dentro la barriera ma comunque eh nella stessa nella stessa nella stessa nella stessa direzione ecco dove dove si introduce l'elemento di rischio in più se mi se mi fermassi a un basket sul singolo sottostante gli elementi da considerare sarebbero soltanto sarebbero soltanto i primi i primi due essenzialmente introducendo il basket worst off si introduce un un elemento un elemento in più poi da ultimo anche qui chi è avezzo ai certificati sicuramente la conosce ormai a mena dito per chi invece si affaccia per la prima volta è importante mettere in evidenza la differenza tra la barriera americana e la barriera europea parlavamo prima di protezione condizionata che avviene a scadenza chiaramente eh la protezione scusate eh condizionata del capitale con una barriera questa barriera può essere monitorata solo a scadenza e quindi siamo nel caso di barriera europea oppure barriera americana per cui la barriera il monitoraggio avverrà in continuo o all'interno del o intraday oppure sul closing eh di ciascun giorno ma comunque un monitoraggio molto più molto più frequente va da sé che la barriera europea è sicuramente più protettiva rispetto alla barriera americana che se la barriera americana viene infranta di fatto salta la protezione del eh del capitale del capitale a scadenza. Voilà quindi fatta questa questa premessa direi doverosa da un punto di vista tecnico e concettuale eh diciamo in quest'ultima in quest'ultima parte del del nostro intervento andremo a guardare quelle che sono le le nostre ultime missioni parliamo della categoria dei certificati a capitale condizionatamente protetto quindi eh dei certificati che come vi accennavo prima hanno tre componenti la prima è quella della cedola mensile come giustamente diceva prima Pierpaolo quindi prodotto che offre che corrisponde un rendimento su base mensile vedete che una cedola una cedola condizionata nel senso che per essere corrisposta si deve rispettare una condizione ovvero che i titoli lo vedremo a breve che tutti i titoli o che il peggiore è la stessa identica cosa tutti i titoli o il peggiore eh vuol dire esattamente la stessa cosa si trovano al di sopra di tale di tale barriera se in un'osservazione questa condizione non si verifica il prodotto non corrisponderà cedola in quell'osservazione vedete in highlight evidenziato l'effetto memoria che è l'effetto che permette di recuperare cedole che eventualmente non sono state corrisposte in una data osservazione perché la condizione non è stata soddisfatta l'effetto memoria che vale sempre durante tutta la vita del prodotto si attiva quando in un'osservazione il sottostante peggiore o tutti i sottostanti ritornano sopra barriera per cui si va a recuperare sia la cedola del mese in questione sia le cedole che non sono state pagate in precedenza questo è l'aspetto di rendimento l'aspetto legato al secondo aspetto è quello legato al rimborso anticipato mensile che si verifica quando il titolo worst off si trova al di sopra di una determinata soglia che tipicamente è uguale al livello iniziale allo strike iniziale quindi al livello stabilito in fase di emissione del prodotto se il peggiore o tutti appunto si trovano sopra il livello iniziale il prodotto termina lì viene rimborsato il valore nominale viene corrisposto all'ultima cedola e finisce e finisce lì quando non si attiva mai il rimborso anticipato e si arriva a scadenza ecco che entra in gioco tutto quanto detto prima ovvero il la protezione condizionata del capitale alle per cui se il worst off o tutti i titoli è equivalente dire queste due queste due frasi si trovano al di sopra della barriera quindi supponendo una barriera al 60 per se il worst off a scadenza rispetto al livello iniziale quindi quello stabilito in fase di emissione non ha perso più del 40 per cento viene corrisposto il valore nominale in caso contrario ed è qui che è l'aspetto di rischio del prodotto in caso contrario e quindi in questo caso basta un sottostante sotto il livello sotto il livello barriera si riceverà la performance di quel sottostante rispetto al suo livello iniziale quindi se abbiamo una barriera a 60 per cento e il peggiore ha perso il 50 per cento siamo sotto la barriera e verrà corrisposto un importo commisurato alla performance del 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 peggiore quindi in questo caso il 50 per cento del nominale quindi nominale mille euro 500 euro per 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 certificato quindi qui trovate anche un po quello che vi ora quello che vi ho detto in 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 chiave in chiave grafica chiaramente queste slide sono sono disponibili su richiesta basta per per chiedere esatto sono sono disponibili su richiesta basta inviarci una un'email all'indirizzo italian punto derivatives derivatives chiocciola exan exane punto com che comunque trovate anche sul sul nostro sito e poi nella slide finale mostrerò mostrerò i contatti esatto ci sono un po di domande se volete quindi vi 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 propongo le domande ce n'è una in per per paolo in particolare che era arrivata durante appunto la la sua presentazione dice quando compriamo un certificato siamo sempre pesantemente venditori di volatilità è vero allora dipende innanzitutto dal tipo di certificato quelli con barriera siamo sicuramente corti di volatilità quindi direi forse pesantemente accentua un po troppo ma sicuramente sì siamo corti di volatilità dipende poi dalle strutture faccio un esempio il classico bonus cap ha un'opzione a barriera la quella appunto che abbiamo visto prima e quindi siamo corti di volatilità e il twin win è un certificato che ne ha due di quelle opzioni lì e quindi è un certificato che risente doppiamente della volatilità in maniera negativa un certificato a capitale protetto senza il cap viceversa solo opzioni play in vaniglia e lì la volatilità e addirittura invece siamo esattamente al contrario l'aumento della volatilità eserciterebbe un effetto positivo quindi in linea di massima per la stragrande maggioranza dei casi è vero siamo corti di volatilità però ci sono dei distinguo ok molto molto bene senti invece c'è una domanda di mario che ci chiede determinate barriere danno spunti short sui titoli è corretta come osservazione allora sarebbe corretta se ci fosse un interesse da parte della banca emittente a far sì che quella barriera si raggiunga io ho capito la domanda e per molti anni mi sono trovato nella stessa situazione di cercare di capire se quella barriera era stata posizionata lì per caso o volutamente allora sicuramente eh dove l'emittente può scegliere di posizionare la barriera rispetto allo strike iniziale tendenzialmente posizionata al di sotto dei minimi di un supporto statico importante o comunque un minimo di periodo aiuta a la a proporre il prodotto sul mercato in maniera più efficace cioè se io oggi ho un certificato adesso li andremo a vedere nel dettaglio che ha come titolo sottostante intesa e metto una barriera sotto un euro è un livello che attrae di più l'interesse di chi compra perché fa stare più tranquillo quindi posizionarla al di sotto di minimi storici o comunque di minimi relativi di periodo può essere sicuramente utile però attenzione a non cadere nell'equivoco e nella tentazione di pensare che aver posizionato la barriera lì sia un segnale short sul titolo innescato dalla ricerca dell'emittente di turno cioè non è che Exan sa che intesa andrà sotto un euro e pertanto mette la barriera lì di modo che alla scadenza non dovrà rimborsare il capitale o non pagherà i premi. Questo è importante che ce lo diciamo e anzi ringraziamo non ricordo se Mario comunque gli ha fatto la domanda esatto quindi lo ringraziamo per questo perché ci dà modo di ricordare che l'emittente non ha nessun interesse a rompere a far rompere le barriere dei certificati perché il ruolo dell'emittente in realtà è quello di andare OTC al posto mio che non ci posso andare costruire questa strategia in opzioni e applicare il suo giusto guadagno nel momento in cui la struttura viene costruita. Dopodiché se il certificato paga tutti i premi o non li paga, se rompe la barriera o non la rompe, se è totalmente irrilevante da un punto di vista finanziario per l'emittente eventualmente diventa un problema reputazionale cioè compro oggi un certificato di Exan e mi rompe una barriera per due centesimi domani ci riprovo mi rompe una barriera per tre centesimi la terza volta vado a comprare il certificato dell'emittente X non quello di Exan. Quindi fondamentalmente non c'è questa relazione diretta ecco però ho preso spunto dalla domanda per chiarire anche questo concetto che è comunque utile cioè che l'emittente è neutro nei confronti del posizionamento delle barriere non ha interesse né che si rompano né tantomeno che non si rompano il guadagno se l'è garantito in fase di costruzione. Ecco grazie mille Pierpaolo le domande più ricorrenti poi sono sempre abbastanza simili ma trovo sia importante ricordarlo la tematica certificati come strumento di investimento quindi una visione un pochino più di medio periodo e in questo senso quale secondo te sempre Pierpaolo può essere il time frame chiamiamolo così l'orizzonte temporale più corretto e poi il discorso della protezione su questo magari mi piacerebbe piacere avere la risposta da parte di Antonio. Prego Pier. Ma allora non so se ho ben compreso la domanda la domanda iniziale. Diciamo su che orizzonte temporale mi posso porre con i certificati se voglio fare investimento invece di trading. Ok perfetto grazie Stefano di avermi interpretato meglio. Ma allora è evidente che lì dipende molto da che cosa sto cercando e effettivamente da quale rischio sono disposto a correre. Quindi se sono un investitore molto emotivo che gestisce male la volatilità andare ad investire su strumenti a un anno in questo momento può essere molto rischioso perché comunque abbiamo di fronte un periodo dove la volatilità tenderà ancora a essere elevata e quindi dal momento che strumenti poco reattivi quindi che si muovono poco come i capitali protetto su un anno praticamente sono equivalenti a non rendere nulla quindi o non faccio nulla o a questo punto mi devo assumere dei rischi. Quindi se sono molto emotivo direi che un anno in questo momento come orizzonte temporale per la situazione attuale forse un po' troppo poco direi che l'orizzonte temporale è quello medio delle emissioni di Exan penso che sia quello più corretto dai tre anni in su ma il che non implica che io per tre anni non possa far niente, ci mancherebbe. Cioè sono prodotti quotati quindi io oggi compro un certificato di quelli che stiamo vedendo fra sei mesi anziché scendere il mercato è rimasto fermo o la volatilità è scesa lo rivendo sul mercato e ottengo il mio risultato però mi devo dare tempo nell'eventualità che invece arrivi questa ondata ancora un po' più alta di volatilità perché i prezzi nella prima fase tenderebbero a scendere e quindi devo essere capace di sopportare la discesa capire cosa ho comprato il che vuol dire non farmi prendere dall'ansia di svendere il certificato solo perché in quel momento i mercati stanno scendendo perché se ho delle protezioni è inutile che vendo dopo sei mesi se il mercato in quel momento è nervoso facciamo passare il tempo e facciamo i conti verso la fine dopodiché il prodotto può sicuramente andare male non c'è scritto a nessuna parte i certificati funzionino tutti pagando i premi però quantomeno posso intervenire un po' più avanti non nell'immediato quindi il time frame inteso come periodo giusto di investimento credo che un investitore medio dalla propensione rischio media i tre anni se li debba dare ok senti in questo senso a questo punto viene giusta la domanda sulla protezione sulla quale magari ci dà qualche dettaglio in più Antonio perché come dici giustamente bisogna anche tenere conto del rischio ma la gestione del rischio è per noi trader diciamo il principale obiettivo e lo ricordo sempre siamo gestori del rischio in questo senso i certificati Antonio come ci aiuta? ma allora i certificati in questo senso aiutano come un'esposizione chiaramente in termini di rischio qui stiamo parlando prendo ad esempio la slide che state vedendo qui stiamo parlando di un rischio azionario sebbene siano degli strumenti che paghino delle cedole quindi il discorso cedola possa in qualche modo dare l'assonanza al mondo obbligazionario il rischio che qui stiamo gestendo è un rischio azionario tant'è vero prendo degli esempi giusto anche per capirci guardassi questo prodotto Kering, SILOR Luxottica e Ferrari era proprio quello che avevamo individuato noi quindi perfetto almeno abbiamo preso, ne dovevo parlare anch'io così lo facciamo insieme in questo momento perfetto quindi lo prendiamo ad esempio ma poi le considerazioni che farò sono valevoli un po' per tutti io chiaramente qui sto andando a prendere un rischio sul worst off prendere un rischio sul worst off significa di fatto, non lo so quale sarà il worst off a scadenza quindi di fatto significa prendere un rischio su tutto il basket però è un rischio diverso da un'esposizione se io andassi a comprare singolarmente Kering, SILOR Luxottica e Ferrari le mettessi tutte e tre nel mio portafoglio lì ho chiaramente un effetto diversificazione qui è importante notare come l'effetto diversificazione non c'è anzi la diversificazione diventa un elemento di rischio soprattutto se io la diversificazione la misuro matematicamente con la correlazione perché qui chiaramente più è correlato il basket minore sarà il rischio maggiore invece sarà, minore sarà la correlazione maggiore sarà il rischio che io andrò a sopportare e in termini di protezione rispetto all'investimento azionario diretto io ho un'esposizione al titolo di fatto con protezione per me il titolo può, se sale, tanto meglio avrò un mark to market del certificato che si gonfia che quindi aumenta, mi pagherà le mie cedole e magari a partire da dicembre di quest'anno se tutti e tre salgono e quindi vanno oltre queste soglie il mio investimento termina lì quindi non necessariamente si arriverà al giugno 2023 però nella parte negativa per me l'importante la mia esposizione dove io inizio a perdere c'è quando le perdite di questi certificati di questi sottostanti, pardon vanno oltre il livello barriera quindi il livello barriera posto al 55% mi sta dicendo che ed essendo un monitoraggio che io faccio a scadenza perché la barriera è europea mi sta dicendo che la mia protezione vale fino a meno 45% di ribassi dei titoli i livelli barriera a parte essere presenti sulle brochure di ciascun prodotto sul nostro sito si possono anche calcolare prendendo i livelli iniziali e moltiplicandoli per il 55% quello è il livello soglia per ciascun titolo oltre al quale io ho un'esposizione diretta all'azione, quindi all'azione worst off poi in particolar modo e dalla quale io poi posso subire una perdita fino a quella soglia se a scadenza si mantengono entro quella soglia la mia protezione è valevole e qui è l'aspetto di protezione condizionata la condizione è non perdere per il sottostante peggiore più del 45% nell'esempio che vi ho illustrato Antonio se posso poi Stefano scusi magari se ci sono altre domande andrei verso la chiusura più che altro per motivi di tempo però poi ricordiamo contatti sito e tutto così possono scrivervi e contattarvi guarda solo per dire che dopo di noi ci sarà sempre con me come moderatore Tony Ciolli Puviani quindi comunque rimanete sintonizzati perché il live resta il medesimo prego Pierpaolo sì, volevo solamente ribadire su questo certificato è il motivo per cui lo abbiamo selezionato anche noi dell'ufficio studi perché allora non so se si è ben capito perché poi purtroppo siamo andati un po' lunghi ma qui c'è un 7,2% annuo da incassare attraverso cedole mensili dello 0,60% con effetto memoria che vuol dire che seppure per qualsiasi motivo uno di questi titoli dovesse crollare del 50% durante il periodo ci sarebbe la possibilità di riprenderle dopo ma la cosa che più mi interessa è 7% annuo 7,2% per la precisione con tre titoli che non sono propriamente dei titoli ad altissima volatilità o comunque una Tesla piuttosto che un bancario che sta soffrendo se voi mettete sul grafico il titolo ad esempio Luxottica Essilor Luxottica che ha fatto lo strike iniziale a 112 il 55% conto della serva sarà circa 60 euro o qualcosina di là il minimo fatto nel 2012 del Essilor è stato a 68 sul periodo covid non è sceso sotto i 90 quindi quando parliamo di protezione ecco qui abbiamo un rischio controllatissimo perché praticamente questo titolo deve andare sotto i minimi del 2012 Caring titolo del lusso ma che comunque ha beneficiato di un rimbalzo enorme è tornato praticamente sui massimi precedenti della crisi ed è adesso a ridosso dei massimi dell'anno anche questo si difende benissimo su Ferrari non credo di dover dire nulla insomma è un certificato che paga il 7% ma su titoli che hanno dimostrato di essere anche soliti quindi per chiudere visto che dobbiamo lasciare la protezione sì però abbiamo detto ci vogliono almeno 6 o 7 anni e incassi i rendimenti che ci sono quindi l'uno l'uno e mezzo all'anno quando è tanto qui è il 7% non hai la garanzia del capitale ma hai sicuramente un rischio controllato e questa serie insomma la slide la potete vedere ci sono diverse idee poi avevo preparato qualche certificato uno su Eni ed Enel comunque anche molto interessante solamente ma insomma questo era un po' il mondo dei certificati che secondo me va approfondito io ti ringrazio ti ringrazio molto Pierpaolo Stefano se posso visto che comunque siamo fuori siamo fuori tempo anzi siamo qualche minuto in ritardo per il quale per il quale ti chiedo scusa e chiedo scusa allo speaker successivo mi colgo l'occasione diciamo per ricordarvi che Pierpaolo correggimi se sbaglio l'8 di ottobre esatto avremo un webinar insieme io e Pierpaolo per cui eventualmente si può sfruttare anche quell'occasione per poter continuare i discorsi iniziati iniziati qui in particolar modo c'era queste in termini di soluzioni per essere anche poi pratici queste soluzioni che vedete a schermo e poi abbiamo preparato anche diciamo queste ultime queste ultime due nuove emissioni che sono arrivate proprio oggi sul mercato ma ci sarà altra occasione non prendiamo altro altro tempo per discuterne appunto ci sarà l'occasione dell'8 di ottobre webinar organizzato assieme a certificati e derivati quindi Stefano mi prendo mi prendo la licenza di fare una sponsorship per questo per questo assolutamente tra l'altro ricordo che il sito di certificati e derivati di Pierpaolo che ovviamente conoscete è fonte oltre che di appuntamenti didattici di grande conoscenza e grande didattica quindi consigliamo comunque sempre una visita e tenerlo diciamo come si diceva una volta tra i bookmarks però è vero è vero deve essere sicuramente quindi come giustamente anche da parte mia grazie grazie anche a voi e se vuoi per Paolo lascio a te la chiusura no io prima Antonio ha dato appuntamento all'8 ottobre ha fatto vedere rapidamente una slide con due prodotti ecco ci tengo in questo caso ad attirare l'attenzione di chi ha minusvalenze perché in particolare questi sono due certificati che pagheranno due maxi premi quindi delle cedole un po' più importanti che possono essere molto utili per chi ha minus quindi quel webinar sarà comunque un webinar più operativo forse rispetto a questo ma questo era molto importante toccare determinati temi io ringrazio Antonio naturalmente ringrazio te Stefano per la regia e l'assistenza assolutamente perfetta di coloro che hanno partecipato sia in sala che da casa Antonio lascio a te invece anche io anche io rinnovo i ringraziamenti per te Pierpaolo che hai voluto che hai partecipato con me a questo questo webinar ringrazio Stefano ringrazio anche tutta l'organizzazione di Investing chiaramente questo contesto che stiamo vivendo non mi ha permesso non ci ha permesso di essere fisicamente presenti a Roma ma speriamo che nella prossima nelle prossime edizioni la situazione sia un po' più normale così avremo anche il piacere di poterci vedere fisicamente per il momento grazie alla tecnologia grazie a Zoom perfetto perfetto è un ottimo sostituto anche se il piacere di vedersi è ovviamente sempre tantissimo allora ragazzi grazie mille